Signori, ai vostri posti. Faccia le carte. Allora, tutto chiaro? Il gioco si chiama poker. Non voglio contestazioni, signor Conte. Le regole le conoscete. Chi vince, sposa la signorina Oniria. E chi parte, invece, se... 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 se rassegna. Chi fa, frate? Se rassegna. L'avete un po' strano, fa delle cose strane. Scusi tanto, signor Conte. Lo spenga, il fuoco lo infastidisce. Ma, va bene, ma... Lo spenga. Ma, va bene, ma... Fraggia, lo spenga. Senta, Fraggia, qui bisogna darci da fare, altrimenti perdiamo anche la camicia. Voglio dire, anche se la perdessimo, scusi, signorina, signor Conte, anche se la perdessimo, la camicia, che ci possono fare, scusi? Non ci possono mica ammassare, no? Sì. Eh, no, mi scusi, signor Conte. Boris! Neanche io voglio contestazioni. Chi è? Voglio. Che? Chi vince, sposa Oniria. Chi perde, vince di detto. Sono le regole. Che c'è, Fraggia, di nuovo? Che succede? Le regole. Quali regole? Chi perde, lo mettono... Nel coso, non capisco, che morire. È un tritacarnone. Tritacarnone? Enorme. La notte è ancora lunga. La notte è ancora lunga. Pensi che è strano? Ho deciso di abbandonare la partita. Coraggio, Fraggia, rilanci. Eh, va beh, rilanci. Abbiamo presenze. Abbiamo presenze. C'è solo questa. Se me la gioco ho perso. Beh, prima ci teneva tanto a perdere, e adesso? Adesso un po' meno. Perché? È perché ha visto che... Cosa? Mette dentro poi... Ma non dite sciocchezze e giochi. Avanti, giochi. Ormai ha perso. Mi scusi, signor Conte, questo è ancora da vedersi. È l'ora, signore. È l'alba. Allora, vogliamo concludere? Non posso aspettare oltre. Ecco, cosa dice lei, Fraggia? Io... Non lo spaventare. Le idioni. È l'alba. Che, che, che ci vorrei pensare un po'. Ci vuole pensare. È la regola. Signor Conte, il gallo ha già cantato. Sta per sorgere il sole. Io ho capito. Mi basta solo un momento, un momento solo. Vlad, la luce, è presto, dobbiamo andare. Sì, vengo subito. Basta fare questa mano e poi vengo. Parli, parli, si sbrighi. Via calmo lei, avvocato. Vlad, andiamo. Non è più possibile restare, il sole sta arrivando, andiamo. Un momento, solo se mi permette. Dunque la regola mi consente... Ma come parla? Sta' zitta tu. Mi consente diciotto minuti di tempo per pensare. Dunque lei ha scattato due caldi. Lei, lei mi ha fatto perdere il piatto e avevo un po' per servito. So, so, so. Non faccio il bambino, signor Conte, ma lei non sa proprio perdere. Io non ho mai perso, mai. Ma, ma lui è... Ma, lui è... Ma, lui è... Eh, 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 eh. Dracula! Sì, io sono Dracula, principe della tenebre. Acquaossio. Un guaranteed. Non hai c better. Ancheâr. Non hai cotto. Non hai cotto. Salire. E bisogno è справito. izo…